Era sicuramente a rischio, come lo sono sempre le partite dopo la Champions, in maniera particolare questa, perché nei dieci giorni precedenti a questa partita abbiamo giocato con Juventus, Roma e Real Madrid. Ritrovarsi in casa contro una squadra di bassa classifica potrebbe essere il giorno del crollo delle energie mentali, nervose, di determinazione e tutto, quindi era una partita a grandissimo rischio e a ragazzi avevo chiesto di stupire l'approcciare la partita proprio come se davanti avesse Real Madrid, con determinazione, con ampliazione, attenzione. Secondo me hanno fatto una partita seria, perché hanno fatto una partita di grande falleggio, forse a tratti abbiamo rischiato di diventare anche leziosi e questo non ci deve succedere, perché visto il predominio della supremazia totale la partita si poteva aiutare anche un attimino prima, però a livello di applicazione, attenzione e qualità di gioco penso che i ragazzi hanno fatto una partita seria.